Ciao a tutti sono Genuine aka Gen40Triver e vi do il benvenuto al quinto episodio di questo speciale pack opening alla ricerca di un giocatore del team of deer ragazzi Oggi è il 19 gennaio 2015 lunedì, l'ultimo giorno per trovare questi benedetti giocatori Andate a guardare o riguardare i miei precedenti pack opening con ibra e gli altri if e cliccate su mi piace ragazzi affinché quei video abbiano rilevanza e commentate se volete Ok ragazzi come vedete ho caricato un po' di soldi per questo mega spacchettamento Andiamo a vedere quali pacchetti ci sono Allora 100.000 pacchetti giocatori rari max 24 giocatori tutti 24 rari Solamente due pacchetti Termineranno tra poche ore Anche questo da 15.000 crediti terminerà tra 5 ore Pacchetto oro premium maxi Oddio 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 Iniziamo prima con questi ragazzi Troviamo qualcuno Speriamo di trovare veramente qualcuno perché fra poco finiranno Saltiamo A Cavolo Müller Non vale niente Aprire pacchetti così Intanto per buttare soldi 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 E troviamo Roio me coio Non so quanti pacchetti ho già aperto Ma veramente non ho trovato nessuno ragazzi nessuno di decente Oh no È un costa falso È un costa fake Adesso andiamo con questi da 15.000 crediti Un'informa ragazzi Un'informa Martin Casares Terzino destro Un'informa Andiamo un attimo a vedere quanto costa In questo momento Casares Terzino destro Vedo qua 23 Poco poco Pochissimo Cioè ci siamo rifatti dei 15.000 alla fine Va bene così ragazzi Visto che terzino destro Non mi serve nemmeno Uniforma ragazzi Subito cliccate su mi piace ragazzi Speriamo di trovare altri giocatori Certo un Oscar O un Sanchez Non mi farebbe affatto schifo Però vabbè abbiamo trovato un if Per questo episodio Shurle Shurle Che Credo che costi veramente poco Andiamo subito A dare un'occhiata Eh sì sui 3.000 Non vale proprio niente Ecco qua ragazzi Quelli da 100.000 crediti 24 giocatori Tutti rari Speriamo di trovarne almeno uno extra raro Schippiamo Oh check O much check O much check Vediamo dopo Oddio brother Grande ex romanista Non vedo Non vedo niente Che delusione Che delusione Ultimo pacchetto da 100.000 crediti ragazzi A meno che Io sports farò uscire altri pacchetti Ma E questo pacchetto lo farò aprire a mia moglie Perché andrò fuori dalla camera Ti prego Urla Se esce un giocatore blu O nero No 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 Qualchetti prom Aspetta Ecco X E questo che didボ Che delusione Visto che non è orlato Ho sentito che non è orlato dunque niente riprendiamo in mano il joystick Lampard Drogba niente niente 100.000 crediti finite i pacchetti da 100.000 crediti ragazzi continuiamo ad andare avanti con questi da 15.000 sperando di trovare qualcuno arriviamo a 1.500.000 ancora tu Drogba arriviamo a 1.500.000 poi faccio una pausa per poi ricontinuare dopo ragazzi andiamo ancora avanti aspettate un attimo come vai 2.000.000 di nuovo venduto Ibra ragazzi venduto Ibra stiamo spacchettando a Balanga ma non troviamo proprio nessuno nessun giochettore del team of the year Pepe 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 nessuno nessuno Silva Silva e poi è finito andiamo subito a vedere Silva how much non vedi 5 ottimo 5.000 6.000 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 Alla ricerca di un giocatore del team of the year mancano 1 ora e 34 minuti ragazzi. Alla chiusura di questa settimana. E... Hazard... Ah no. Hazard falso. Niente. Ma come Antonio Conte nella Liga. Sono molto curioso di vedere come si comporta nel mercato. Dopo questa settimana del team of the year, se i prezzi si alzeranno. Almeno così. Un if ragazzi. Questo non varrà proprio niente. Vi sente i borra. Che nome ho. Primo proprietario. Varrà pochissimo credo. Un altro if ragazzi. In questa puntata. Un bel mi piace ragazzi. Per questo... Per questo secondo if. Ma perché non escono giocatori del team of the year ragazzi? Solamente if. Al massimo ibra. Ma niente. Niente. Mi fanno uscire Podolski ragazzi. Podolski mi fanno uscire. Da 15.000 crediti. Che alla fin fine sono buoni ragazzi. Oscar. 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 If. 3 if ragazzi. 3 if. 3 pippe. Andiamo a vedere quanto viene. Ecco ecco. Sono gli 80.000 ragazzi. Sono gli 80.000. bene ragazzi. Primo proprietario. Oscar. If. Oscar. Bene così ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo. Andiamo ancora avanti ragazzi. Per questo rush finale. Un'ora. Da questo preciso momento. Un'ora. Al termine. Di questi pacchetti. Della settimana. Del team of the year. Martinez. La prima volta. Che ho. Martinez. Va bene. In questa ultima ora. Ci saranno. E ci sono. Solamente. Questi pacchetti. Da 15.000 crediti. Dunque. Se avete crediti. Da spendere. Spendeteli. Perché. Troverete Alex. Ragazzi. Troverete Alex. Davvero. E Kevin Prince può attendere. Courtois. Ragazzi. Courtois. 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 Vediamo quanto costa. Ragazzi. Oh. Ci siamo rifatti il pacchetto. Con gli interessi. Oh. Sui 60.000 crediti. Courtois. Buono. Così. Ragazzi. E l'ombra. Di un team of the year. Proprio. Non si vede. Buateng. Buono. Prima volta. Prima volta. Che trovo. Buateng. Quanto viene. Poco. Poco. Proprio. 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 Ma buono. Ma buono così ragazzi. Ve lo tengo nel club. Arriviamo a un milione di crediti e poi veramente basta. Perché. Tanto qua non esce. Esce Naldo. E poi basta. Ah. Ah. Gli ultimi due pacchetti poi ragazzi. Oh. Fabricas di nuovo. Ultimi dieci secondi ragazzi. E poi dopo. È finita veramente. L'ultima mia possibilità. L'ultima mia possibilità. È. Oddio. È l'alba. È l'alba ragazzi. Ok ragazzi. Appena letto. Dall'account twitter ufficiale. Della EA Sports. Che non è più possibile trovare. La squadra dell'anno. E dunque. Ed è. Un game over ragazzi. Perché. Dopo. Dopo tutti questi spacchettamenti. Ho. Ho trovato. Degli if. Ibra. E. Va bene. Va bene così ragazzi. Si va avanti. Si gioca. Ci si diverte ragazzi. Vi volevo ringraziare per le visualizzazioni. Per. I mi piace ragazzi. Mettete un mi piace a questo video ragazzi. Perché abbiamo trovato tre. If. In questo. In questo video. E. Va bene ragazzi. Vi saluto. E vi ringrazio. Forza Roma. E abbasso la Lazio. Ciao. Da Genuine. Aka. Genforti Tripper.